Musica Tres spettatori ben ritrovati con l'informazione di Terediogene che apriamo con la politica locale, comune di Crotone, sulla nomina di un nuovo assessore si oppone Emilio De Masi. Pit Stop Tagliandino, chiamatelo come volete, ma al comune di Crotone nei giorni scorsi era stato deciso di fare un cambio. Il cambio era sostituire l'assessore comunale ai lavori pubblici Emilio Candigliotta con il consigliere comunale Giancarlo Devona. Quindi sostituire un rappresentante dell'ex Italia dei Valori, diventata poi Agenda 139, con un rappresentante del PD. La decisione era stata presa in un incontro interpartitico, presente tutti i segretari della maggioranza, compreso quello di Agenda 139. Il PD nel corso di quella riunione ha chiesto agli alleati un sacrificio, perché c'erano problemi all'interno del gruppo del PD. Con quale motivazione? Quando i problemi li aveva l'Agenda 139, l'Italia dei Valori, noi abbiamo ceduto più di quello che dovevamo cedere. Abbiamo riconosciuto per far quadrare il cerchio all'Italia dei Valori e quindi all'Agenda 139 più di quello che era la loro rappresentanza in giunta. Sulla base di questo c'è stato un accordo, l'accordo era che bisognava che l'Agenda 139 rinunciasse a un assessore. E quindi sulla base di questo si sono lasciati, c'era un accordo scritto, un accordo sottoscritto nel corso di una riunione, anche se non c'è la firma, ma gli accordi così si fanno. Allora, dopodiché, ci è stato detto che il cambio in giunta sarebbe avvenuto ad Oras, prima della fine della scorsa settimana. Venerdì o sabato ci doveva essere questo cambio. Il cambio di Giancarlo Davone che era indicato, era stato scelto dal gruppo, da quel gruppo del PD dissidente con Vallone. Vallone aveva questa esigenza di nominare un rappresentante di questo gruppo di sei consiglieri che negli ultimi anni aveva fatto mancare il numero in consiglio comunale, quindi per portare a termine una consigliatura in maniera più tranquilla. Questa era l'operazione che era stata fatta. E allora si aspettava la nomina di Vallone, da parte di Vallone di Giancarlo Davone. Però non è stato nominato. Qualcuno dice che Vallone ci ha messo anche la firma su questa nomina, che materialmente c'è la firma per rendere esecutivo la cosa. Si è aspettato che l'assessore Emilio Candigliotta si dimettesse per evitare di essere cacciato. Beh, da quel momento, da quello che ci riferiscono le persone che tra l'altro poi si riuniscono, anche i rappresentanti di Agenda 139, da quel momento è entrato in gioco Emilio De Masi, che è il leader di questo movimento. De Masi non vuole cambi. Non vuole cambi. O se cambi ci devono essere, vuole l'azzeramento della delegazione. Cioè De Masi che problema pone? Nessuno di noi singolarmente va via, ma tutti andiamo via da questa maggioranza. Questo era quello che ha posto De Masi. E la risposta? Il primo a rispondere no è stato Mario Meglio, vice sindaco. Cioè io non mi dimetto. Io non mi dimetto. Ma no contro l'ipotesi De Masi, contro questi ipotesi De Masi ci sono stati altri no di consiglieri. La maggioranza di consiglieri di questo gruppo si sono schierati con Meglio. Cioè restare nella maggioranza e andare fino in fondo senza magari Candigliotti. Poi De Masi stamattina è di nuovo convocato alla riunione del gruppo. Anche lì, secondo quello che ci hanno riferito, noi non eravamo presenti, non siamo in grado di dirvelo in maniera scientifica questa notizia. Secondo quello che ci hanno riferito, anche lì c'è stata questa richiesta di De Masi dell'azzeramento totale della rappresentanza di Agenda 139. E anche lì i consiglieri hanno preso una posizione abbastanza precisa. No all'uscita della maggioranza. Dopodiché intorno alle 12 e mezza De Masi è andato al Comune a incontrare Vallone. E la riunione è in corso. Vallone dal canto suo non può tornare più indietro e dire abbiamo scherzato. Abbiamo scherzato, non la facciamo più l'operazione. Perché ci ha messo, ed è quattro anni, a ricombattare il gruppo del PD. Che tornerebbe di nuovo a non avere più. Il suo governo diventerebbe ancora più difficile governare i processi. Perché a questa non condivisione del gruppo del PD si potrebbero unire altri. Insomma, è un cane che si morde la coda e queste cose succedono quando si prendono le decisioni e per rispetto della suocera si cerca di indorare la pillola. La pillola è sempre amara. Quando la decisione è presa bisogna subito intervenire. Perché più si attende, più la pillola diventa amara. Vertenza su Acro, stamane presso la Camera del Lavoro Cigelle di Crutone. Conferenza stampa. Due istanze parlamentari, una avversa da parte di Soli per una volontà. Stamattina siamo stati chiamati da telespettatori, uno in particolare che è in dialisi, e ci ha detto che da sabato, da quando hanno messo mano a quella rottura in via Regina Margherita, l'acqua a casa sua arriva come un piccolo rivolo e non riesce nemmeno a lavarsi. Ma sono tante le chiamate di altri telespettatori. Questo è particolare, perché alla dialisi dice che ho bisogno di lavarmi, sono una persona malata e non mi fanno lavare, eppure la bolletta la pago. Sono tante le persone di questa città che non hanno più la quantità di acqua con l'arrivo di queste giornate calde che dovrebbero avere. Arrivano telefonati da ogni parte della città, soprattutto quelle che abitano nei piani alti. Mentre c'è questo problema, si discute anche del futuro dei lavoratori. Cigel e Guil questa mattina hanno convocato una conferenza stampa. Cigel e Guil, che sono pure sensibili alle questioni dei cittadini, hanno convocato una conferenza stampa per parlare del futuro dei lavoratori della Soacro. Assolutamente sì. Prima che per parlare del futuro dei lavoratori, ci piace e quindi hai fatto bene a esternare quelle che sono state le denunce di gente ammalata, ma anche a noi arrivano. Quindi questo noi vogliamo proprio risolvere il problema dalla radice. Qui c'è un problema annoso, vecchio e soprattutto in un momento in cui l'estate è più calda che mai rispetto agli anni passati, viviamo un momento molto difficile. Un difficile sia sul punto di vista lavorativo, ma sul punto di vista di una mancata gestione di un servizio troppo importante, troppo complesso. che è dovuto a una situazione economica di un'azienda che è saltata. Stiamo parlando della Soacro. Parliamo anche della Sorica che è saltata pure la Sorica. Ma è saltato il servizio. È saltato il sistema. Il sindacato è preoccupato. È preoccupato perché dietro questo salto di una gestione che è fallimentare, ma non si può andare avanti perché anche il nuovo presidente non l'hanno messo per fare miracoli. È ovvio che noi siamo preoccupati. L'hanno messo per salvare, per fare i miracoli, ma non è attrezzato per il miracoli. Non è assolutamente attrezzato. Non ce l'ha l'aureola di San? Assolutamente. Magari, altrimenti non staremmo qui a parlare. Siamo preoccupati perché c'è un'istanza fallimentare di questa azienda che è saltata, come dicevi tu benissimo, e il servizio però deve andare avanti. Il servizio deve andare avanti e la nostra preoccupazione è... E chi lo deve fare? Il servizio lo deve fare chi per noi è la politica. Cioè la sua acro è un'azienda, un SPA, che ha diversi soci che sono tutti i 27 comunali. Quindi le amministrazioni comunali. Le amministrazioni comunali dovranno fare il servizio. Qualcuno l'ha già chiesto di portarlo a sé, un servizio, ma è ovvio che se noi non sappiamo che cosa bolle in pentola, la nostra preoccupazione è che questo servizio saranno costretti i comuni a darlo a terzi perché da soli non potranno gestirlo, ma la nostra preoccupazione è che i lavoratori restano a casa. Oltre alla preoccupazione dell'acqua che manca, c'è anche quella di 120 persone. Disoccupazione di 112 persone in un territorio che tu sai benissimo che anche un singolo posto di lavoro vale milione perché siamo in un momento di disoccupazione generale. Ecco il perché di questa nostra... Domani c'è un incontro in prefettura. Domani abbiamo un ennesimo incontro in prefettura, un tavolo prefettizio dove vedremo se riusciamo a venirne fuori, se un soggetto nuovo deve essere fatto o anche i sindaci potranno accaparrarsi di questo servizio, ma totale, però salvaguardando i livelli occupazionali. Cioè i sindaci se prendono la gestione diretta devono assumere in proporzione le persone... Ma penso sia una cosa... Questa è la proposta vostra. La proposta... E la farete domani... La faremo domani questa proposta in modo serio, ma senza se e senza ma. Noi siamo stati sempre costruttivi nel nostro percorso, però dobbiamo avere chiara la situazione. Anche perché si parla di soggetto nuovo, ma soggetto nuovo non può partire perdente come quello appena passato. Sì, perché c'è il problema del costo dell'acqua all'ingrosso. Esatto. Se non si cambia quello, se non si cambia il costo dell'acqua... Ma non solo, se non si mette male alla rete. La rete fa acqua, come si dice, per restare in tema, è rovinata, è vecchia, quindi va rinnovata perché il costo dell'acqua all'ingrosso è un conto, ma per il fabbisogno di una città come Crotone, faccio un esempio, tot mila metri cubi, per arrivare al fabbisogno vero, con le reti in queste condizioni, è normale che ci vuole il doppio dell'acqua, che il cittadino deve pagare. Sì, perché molta acqua si perde, poi gli interventi si fanno a rilegare, non hanno i soldi, lo diceva prima nel suo intervento nella conferenza stampa, non hanno i soldi nemmeno per aggiustare le perdite, devono fare i miracoli. Sì, non hanno i soldi neanche per la minuteria, non stiamo parlando di grandi interventi, perché la situazione economica è disastrosa. Domaino, il problema è serio, tanto è che CGL e Guille hanno deciso di affrontarlo, convocando una conferenza stampa e annunciando che i sindaci devono fare qualcosa di più rispetto a quello che hanno fatto fino ad oggi. L'acqua è un bene che non può mancare nelle case dei cittadini. Beh, l'acqua è un bene primario, così come lo è la raccolta dei rifiuti, così come lo è l'unica infrastruttura ancora esistente che è l'aeroporto, così come sono tutti quegli altri servizi verso la quale la politica, dopo aver fatto tutte le proprie nefandezze, applicato le più becere politiche clienterali, poi al momento delle difficoltà economiche, che è normale che vengano fuori, se ne tira, si nasconde dietro il dito. E questo è il problema che accomuna le vertenze di crotone. Tutto qui c'è un disinteresse totale verso ogni situazione, è ancora più grave verso quella dell'acqua. Voi avete fatto una posta chiara, o i sindaci trovano una soluzione alla società che gestisce l'acqua, sostituendo la sua acqua per una società più sana, oppure se ne prendono direttamente alla gestione. Esatto, è anche paradossale che dobbiamo trovare noi, ancora una volta dobbiamo surrogare un po' quello che è il ruolo della politica, non è da noi che deve venire una proposta, ma il problema è che in un silenzio così assordante, presi da un senso di responsabilità, si cerca di dare corpo a una soluzione sicuramente migliorativa della questione. Ripeto, il fatto è che c'è un disinteresse totale verso tutte le questioni. Noi continuiamo ad avere sempre più società, più consigli di amministrazione, più dispersione di spese e in questa città non si ha il coraggio di fare un ragionamento unico che dia risposte, innanzitutto in termini di servizi, perché c'è il problema occupazionale, ma c'è il problema degli utenti a cui deve essere un regato un servizio pubblico, a cui deve essere erogata l'acqua. Mentre si discute, noi siamo chiamati dai cittadini che ci dicono stamattina una persona dializzata, per citare uno dei tanti che ci ha chiamato, arriva solo una piccola quanta di acqua e non riesco a lavarmi. Io sono malato, ho il diritto di lavarmi e abita nella zona dell'Inps, in quella zona lì. Certo, poi ci sono casi del genere in cui il servizio inefficiente assume anche danni diversi, ma il problema, ripeto, è quello che questo disinteresse totale porta oggi ad avere a Crotone una situazione insostenibile. il nostro scopo di questa iniziativa è quello di far capire alla cittadinanza quello che è la verità, fare denunce pubbliche. Alla fine qua o si risveglia qualche coscienza politica o se ne andassero a caso. E questa cosa la direte domani al Prefetto? La diremo anche al Prefetto, anche se ben sappiamo che il tavolo prefettizio poi alla fine ha una competenza limitata nella cosa, seppur... Può sollecitare, può sensibilizzare, dare consigli, dare un aspetto giuridico alla procedura di raffreddamento per un eventuale sciopero, ma nel merito all'avvertenza e nei rapporti che si hanno con l'istituzione e con la politica purtroppo può avere solo un ruolo di sensibilizzazione. Perché voi avete chiesto l'incontro col Prefetto perché lo stato di agitazione si prevede anche lo sciopero. Esatto, si arriverà anche a questo. A Ferragosto magari. A Ferragosto, speriamo proprio di no. Speriamo che qualche buona coscienza si risvegli davvero ed eviti un rischio del genere. Io chiedo scusa davvero alle cittadinanze da parte anche un po' dei lavoratori, ma forse in questa cosa lavoratori e cittadinanza dovrebbero essere insieme. Il male, il cancro sta a un'altra parte ed è questa classe politica istituzionale. La totalità piena o un ragionamento più vasto per come arrivare a una società nuova. Restiamo in argomento servizio idico integrato. Incontriamo il sindaco di Cotrone Nicola Belcastro che ribadisce la volontà di voler uscire come amministrazione comunale dalla gestione di Soacro. Il primo comune della provincia di Crotone che si è reso conto che la vicenda dell'acqua non poteva essere abbandonata nelle mani della Soacro la gestione dell'acqua è stato quello di Cotronei. Subito ha detto io voglio fare questa scelta di gestire in mida solo tutto il ciclo dell'acqua. E ha fatto anche una proposta formale oggi lo fa anche Castelsilano ci sono altri comuni come Savelli insomma si stanno muovendo perché c'è la necessità di tornare alla gestione diretta Belcastro perché lei fa quella proposta? Ma veramente noi come amministrazione comunale di Cotronei da molto tempo che stiamo lavorando per la re-internalizzazione del servizio non è solamente in questa fase dove ci sono problemi di ordine di equilibrio finanziario dell'azienda ci sono due richieste di fallimento già con l'allora presidente Capozza abbiamo una prima fase di discussione stiamo parlando della Sovacro perché il presidente era Domenico Capozza prima poi sostituito con Giovanni Scordamelli Sì già da allora abbiamo la procedura per la gestione della fase provvisoria per effetto esclusivamente della convenzione in essere tra l'autorità d'ambito ormai regionale e la Sovacro e io nei giorni scorsi ho ulteriormente ribadito questa volontà da parte dell'amministrazione comunale anche alla luce della situazione finanziaria e di stabilità aziendale da parte di Sovacro stessa e noi siamo perché il servizio venga ad essere re-internalizzato all'interno del comune dalla bollettazione agli interventi manutentivi sulla rete idrica e fognaria alla gestione della depurazione in maniera complessiva facendo capo tutta quanta l'attività all'interno del comune stesso con quale dipendenti e che fine fanno i dipendenzi della Sovacro? Allora questo voglio essere altrettanto chiaro quando è che è stato spostato il servizio dal comune alla Sovacro nessun dipendente comunale si è spostato mi rendo perfettamente conto che oggi siamo di fronte a una situazione di carattere diverso pertanto la salvaguarda dei livelli occupazionali diventa uno degli obiettivi da dover tenere in considerazione in questo percorso io ritengo che all'interno di quelli che sono i servizi che comunque andranno a fare faccio un esempio la gestione della depurazione inevitabilmente obbliga il passaggio dei dipendenti e la continuità funzionale dei dipendenti diverso è per esempio me ne rendo altrettanto conto per quanto riguarda la mera parte amministrativa perché per quanto riguarda la parte amministrativa la gestiranno i dipendenti del comune attualmente esistenti noi abbiamo un ufficio tributo di grandissimo livello voi insomma se ho capito bene vi fate carico di una parte di questo personale tecnico se c'è se c'è 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 nel nostro caso c'è ci mancherebbe altro ci sono adeguate professionalità che possono essere impiegate in questo tipo di non molto non molto io lo dico io non molto perché molti dei dipendenti della Soacro non sono tecnici no io sto facendo il caso specifico per quelli che sono i soggetti di codronei che conosco e posso dire che ci sono delle adeguate professionalità in grado di poter far funzionare bene il servizio il resto saremmo in condizioni anche come comune di poterlo fare direttamente e per tanto vogliamo ulteriormente ribadire questo tipo di percorso io ho avuto anche una risposta formale alla mia richiesta da parte della Soacro la quale non si è posta in termini ostativi anzi in termini collaborativi rispetto a questo tipo di percorso subordina alla volontà da parte dell'autorità d'ambito regionale e questo tipo di soluzione alla regione Calabria la regione deve prendersi la regione è latitante in questo periodo anche su queste vicende per esempio la Soacro ma anche i sindaci della provincia di Cortano non riescono ad avere un incontro con la regione Calabria su questa vicenda un incontro ufficiale un incontro serio serio e ufficiale incontrarsi giusto per poter perdere del tempo non si incontra quasi giornalmente il confronto in regione un incontro serio necessitante da questo punto di vista io parto da un presupposto e non voglio essere assolutamente il sindaco che mette in discussione un principio quello della gestione unitaria del servizio perché in termini assoluti è un principio corretto il dato è inverso cioè la modalità con cui è stato fatto il percorso di funzionamento in sostanza la qualità del servizio che veniva prestato da parte di Sovacro era ed è un servizio estremamente carente e limitato lo era già da prima ecco la ragione della nostra richiesta di reinternalizzare il servizio lo era già da prima e ulteriormente incancremito in questa fase il comune di Cotonelli si sta sostituendo noi stiamo sostituendo le tubazioni fognarie rotte noi stiamo intervenendo rispetto alla situazione idrica non adeguata noi stiamo intervenendo con i mezzi e con i nolli da parte del comune per quanto riguarda gli interventi e dato che dobbiamo comunque farlo allora a questo punto scusate ma è giusto che abbia la titolarità il comune di poter fare questo intervento non c'è dubbio c'è i soldi li spendo ma almeno li spendo per me sono io proprietario non è che spendi i soldi e poi vengono acquisiti da altri e qui non c'è un problema di rapporto societario perché il rapporto societario è un'altra cosa e la gestione del servizio non può essere con onere a carico del comune e con un servizio che è di fatto gestito da altri per cui che si interrompesse io l'ho detto molto chiaramente nella mia nota al presidente della sua acro il giorno dopo che io approvo il bilancio e pertanto sono nelle condizioni di poter effettuare tutte quante le mutazioni del caso voglio richiedo formalmente se non c'è la disponibilità io avvierò anche azioni di carattere autoritario perché il comune di Cotronee non potrà consentire di continuare ad andare avanti così convoquerò il consiglio e di autorità riprenderemo il servizio lo dico molto chiaramente invitando Regione poi potrà venire la regione potrà venire il prefetto potrà venire chiunque voglio vedere chi è che mi dirà no che non lo posso fare stante la situazione in essere del servizio che ormai è ridotto a livelli minimi sono destinati a peggiorare stamattina c'è stata una conferenza stampa di GGL e Guille che hanno di fatto annunciato che stanno andando dal prefetto per proclamare lo sciopero quindi c'è il rischio che restiamo senza acqua per agosto anche questo è un invito alla responsabilità io ho detto chiaro a tondo ragioniamo ma non ci penalizziamo i cittadini rispetto alle questioni vediamo con la massima responsabilità di poter gestire questa fase del mese di agosto che è sicuramente una fase in cui dovremmo essere più attenti alle potenzialità del nostro territorio turismo accoglienze e quant'altro invece che poterci fare questo io questo mi sento di dover fare anche un invito alle organizzazioni sindacali a mantenere l'attenzione che hanno fino ad oggi mantenuto e l'equilibrio che hanno fino ad oggi mantenuto anche in questo scorcio sapendo che dato che ancora si continua a discutere su che cosa dover fare per il futuro la soluzione è da domani mattina una volta che i comuni ormai entro il mese di agosto approveranno tutti quanti i bilanci sono nelle condizioni di poter riprendere il servizio se c'è qualche comune che ha difficoltà a poterlo fare ne comprendo le ragioni perché c'è una situazione di difficoltà ovunque ma ritengo che questa possa essere una via forse la più immediata per poterla affrontare Impianto di lavorazione dei rifiuti in località Ponticelli stamane manifestazione di protesta dinanzi la sede della prefettura di Crotone Gli abitanti della zona di Ponticelli insieme agli attivisti Noene stamattina sono davanti al prefetto e hanno chiesto un incontro perché la puzza la puzza che emane l'impianto di Ponticelli è insopportabile per chi abita a qualche centinaio di metri allora c'è tra i tanti sono volti conosciuti di persone che abbiamo già intervistato altre volte ce n'è uno che viene invece in ferie originario di scandale che ha avuto la sventura di farsi una casa lì Ho avuto la sventura sì perché nel 94 l'abbiamo costruita pensando di far realizzare qualcosa di bello e vivere tranquillamente tornare anche in Calabria per la mia pensione e invece qua non è cambiato nulla solo puzza 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 la casa sua non è abitabile perché io vengo una volta al mese quella volta al mese una volta all'anno che vengo devo stare chiuso sigillato in casa perché fuori da Milano provincia della provincia di Milano quindi viene qui per farsi le ferie le vacanze e invece sogna quando è a Milano sogna l'aria pulita il profumo del mare e invece trovo solo spazzatura solo spazzatura allora stamattina avete fatto che cosa chiedete al prefetto noi abbiamo già fatto una richiesta di incontro affinché invitassi anche le autorità competenti cioè le autorità competenti che significa le autorità competenti significa il sindaco la regione Calabria le ASP e un po' tutte quelle che sono le istituzioni che dovrebbero vigilare noi abbiamo un documento dell'ASP dove dice che manca l'autorizzazione per continuare i lavori quindi dov'è questo documento? me lo faccio vedere me lo faccio vedere perché prego il secondo foglio le do anche il primo foglio allora il primo foglio che dice? fammi vedere la parte importante di tutto il documento stilato dopo un'indagine dell'ASP è questa vedete qua allora la dottoressa è firmata scusa scusa dalla rosa bilotta dirigente del servizio di igiene ambientale di quanto quando è datato questo? luglio 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 2015 16 luglio 2015 è oggetto inconvenienti igienici sanitari di località Ponticelli Zigara del comune di Crotone dove è la parte che dobbiamo leggere? allora la parte dove si deve leggere è che il dipartimento politico dell'ambiente della regione Calabria dichiara decaduto l'autorizzazione integrale ambientale va bene questa è la parte che loro considerano importante il dipartimento politico dell'ambiente della regione Calabria con decreto del numero 8099 sbarra 2013 ha dichiarato decaduta l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata nell'impianto sezione rsu e valorizzazione rd della ditta tech spa quindi non hanno l'autorizzazione esatto e sono stati portati a conoscenza il sindaco della città di Crotone il presidente della provincia il dipartimento delle politiche ambientali della regione Calabria e il dipartimento tutta la salute pubblica delle politiche sociali e sanitarie della regione Calabria da questo documento che è stato inviato il 16 luglio ad oggi non si è mosso nulla sembra che questa sia una città dove l'illegalità sia una cosa normale quindi noi ci saremmo almeno aspettati gli avvisi di garanzia in merito perché per come parla il documento la cosa è molto grave c'è la salute pubblica i cittadini lì non possono più vivere e abbiamo fatto quest'ennesima dimostrazione davanti alla prefettura perché noi abbiamo protocollato la richiesta per ascoltare un po' tutte e per risolvere questo problema questo problema sappiamo tranquillamente che si può risolvere solo con la delocalizzazione dell'impianto noi non siamo contro i lavoratori ma l'impianto va chiuso c'è una parte che io considero più importante di quella della cosa mentre leggevo mentre parlavo inoltre nel corso di precedenti sopralluoghi è stata evidenziata scrive la dottoressa Bilotta la situazione del canale che attraversa in direzione Stovest l'aria dedicata all'impianto di selezione RSU e valorizzazione RD attualmente gestito dall'ecologia oggi SPA e sbocca direttamente in mare bene questo canale che cosa porta a mare le acque si presentano si presentavano di colorazione scura e maladorante diciamo che la sintesi di non dare più le autorizzazioni per operare è in virtù di tutto quello che è scritto ma poi dice la dottoressa queste caratteristiche facevano presupporre che nel canale vi fosse un'immissione abusiva di scarichi o di percolato che provocavano anche l'inquinamento delle acque marine antistanti questa è la cosa più grave c'è il danno ambientale che viene certificato dall'ASDA o quantomeno viene ipotizzato allora per quel che riguarda la sintesi fatta dalla dottoressa Bilotto non è solo questo c'è anche da aggiungere il cattivo odore che è la cosa più importante cioè c'è un problema sia a mare che a terra quindi la gente non può respirare e quello che si contesta maggiormente è che i cittadini lì non possono uscire fuori non possono genare non possono pranzare l'inquinamento delle acque è una cosa che aggrava la situazione quindi invitiamo il prefetto a indire subito il tavolo che noi abbiamo richiesto per bloccare subito tutte le procedure e bloccare l'impianto io voglio dire solo una cosa che mi suona in quanto strano se questi qua riescono a lavorare senza autorizzazione vuol dire che sono protetti di qualcuno a livello amministrativo perché non si può la legge non può non intervenire a una cosa del genere come si fa se io lavoro senza pagare le tasse la mia finanza mi chiude vorrei sapere questi signori come fanno a lavorare punto signora si parlava poco fa per il canale dell'acqua io ho il canale corrispondente con la mia casa veniva di tutto noi abbiamo prelevato anche l'acqua era un'acqua bianca brutta puzzolente perché noi così non si può vivere noi abbiamo chiamato di tutto i bambini è possibile che noi con le case che abbiamo non possiamo portare i bambini al mare non è possibile professore abbiamo speso un sacco di soldi i miei figli sono dovuti prendere un pallacchino a crotone ma vi rendete conto io non posso portare i miei nipotini a casa mia non si può vivere così noi abbiamo pure a luna di notte abbiamo chiamato a tutti vigili del fuoco carabinieri polizia di tutto non si è visto niente fino ad ora non si è visto niente e noi che cosa dobbiamo dire io ne soffro di l'inita nasale io quando esco sul mio pianerotto i miei figli mi devono fare scendere che mi viene da svenire mio marito due anni fa l'11 agosto morì io il 7 agosto ho dovuto chiamare l'autobulanza per portarci l'ossigeno perché dovevo stare con la porta chiusa e finestre chiuse voi ditemi se si può vivere così no io non l'accetto nasce a Crotone l'urban center luogo di confronto per lo sviluppo del territorio nasce l'urban center luogo di confronto per lo sviluppo del territorio così titola un comunicato trasmesso ieri l'assessore all'urbanistica del comune di Crotone l'urban center sì è uno strumento fondamentale per noi perché noi pensiamo che coinvolgere la città sui grandi temi che interessano lo sviluppo è fondamentale non solo per l'amministrazione comunale vallone ma soprattutto per la politica ecco perché approfittando di una misura PISU che allocava l'urban center nella bastione Matoledo rientriamo con questo lavoro allocchiamo a bastione bastione Toledo riapre stiamo per presentare il progetto e quindi facciamo immediatamente la gara quindi urban center verrà allocato che cos'è urban center urban center è il grande contenitore di idee dove noi apriamo questo tema per la città quindi siamo partiti dagli ordini professionali perché riteniamo che sia fondamentale partire dagli ordini è un incubatore è un incubatore di idee che proiettano la nostra città sui grandi temi dello sviluppo quindi stiamo parlando del PSC stiamo parlando del piano spiaggia stiamo parlando della programmazione che interessa diciamo lo sviluppo e come si compone come si compone noi partiamo dagli ordini infatti siamo partiti dagli ordini quindi dentro l'urban center ci sono gli ordini e abbiamo riscontrato positività da parte degli ordini a sposare questa diciamo questo nostro percorso ma abbiamo già una serie di movimenti di associazioni cittadini che vogliono partecipare quindi la democrazia partecipare a questo nostro allora ci sono i progetti li portate in questo contenitore che è urban center e li discutete e viene fuori il progetto finito dovrebbe venire fuori che poi deve essere approvato dal consiglio comunale così? sì ci sono una serie di strumenti dove il consiglio comunale sarà fondamentale per quanto riguarda le indicazioni ma a questo ci stiamo portando dietro una grande disponibilità da parte della regione non solo da parte del presidente Oliverio ma anche del nuovo assessore all'urbanistica il professore Rossi che ha già condiviso questo percorso dell'amministrazione ma comunale e pensiamo che diciamo nel mese diciamo di settembre possiamo fissare a Crotone una data ufficiale per dare il via libera con la regione Calabria che riveste un ruolo fondamentale su questi grandi temi dello sviluppo la nostra città quindi la politica che condivide con la città che condivide con gli ordini con le associazioni i movimenti i comitati questo nuovo percorso i percorsi dello sviluppo devono essere a conoscenza della città stamane presso la sede dell'area marina protetta a Capo Rizzuto il dottor Sergio Arena commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone ha presentato il progetto sulle meduse presenze nel nostro mare come conoscerle e come proteggersi l'asp parla di meduse l'azienda sanitaria provinciale parla di meduse per due motivi perché la medusa è un sintomo di un mare anche che sta bene se presente ma anche pericolosa alla salute di chi fa il bagno no? sicuramente le meduse diciamo scelgono i mari puliti i mari puliti poi è un pericolo più che un pericolo diciamo può essere un inconveniente per un bagnante ritrovarsi diciamo in uno specchio d'acqua dove ci possono essere le meduse il progetto che viene presentato oggi fatto dal Dipartimento di Prevenzione dalla dottoressa Cosco che poi illustrerà è un unico primo progetto che si fa in Calabria ci sono esperienze di questo progetto nel Salento in Sicilia e anche in Sardegna quindi Calabria è il primo dove serve innanzitutto diciamo a prendere coscienza che le meduse possono essere gestite le meduse possono anche dare solamente un fastidio cutaneo così di un'allergia ma molte volte in alcuni casi possono essere anche pericolose fino ad arrivare diciamo in alcune situazioni anche allo shock anafilato dove ci sono sono un sintomo di mare pulito sì sicuramente quindi l'importanza è anche diciamo la conoscenza ma anche lo scopo di questo progetto quindi la presenza anche del dottore Munger del pronto soccorso del dottore Casper Murache è che 118 sì diciamo la buona conoscenza della gestione del contatto con la meduse evita anche l'intasamento in questo periodo di estivo al pronto soccorso quindi diciamo la risoluzione magari che si può avere anche in loco senza intasare il pronto soccorso senza avviare diciamo quelle procedure del codice perché ce ne sono molte sì in questo periodo in questo periodo ci sono molte persone che avviano molti accessi al pronto soccorso che avviene proprio per un contatto di meduse perché che deve fare uno se c'è il contatto con la meduse questo lo vediamo quando verrà esposto adesso il progetto la dottoressa Cosco i dottori presenti diciamo spiegano come può essere gestito questo contatto Ilaria Cosco la dottoressa che si occupa di questo progetto quando uno viene a punto da meduse che deve fare dottoressa diciamo che il lato medico poi lo curerà il dottore Gaspare Muraga diciamo che capita nei nostri mari che ci possa avvenire la puntura da medusa ricordiamo è importante che non non sono le nostre meduse letali per l'uomo quindi il tutto si fermerà tramite una banale urticazione che sarà poi con l'utilizzo di una pomata o di piccole accortezze che poi appunto ci si spiegherà andrà a minimizzare la problematica quindi di stare il messaggio è quello di stare tranquilli di fare tranquillamente il bagno questo è il motivo di questo progetto sì anche tra i vari motivi che poi appunto si andranno a disporre e quindi di stare sereni vivere veramente con tranquillità il mare è un progetto che abbiamo voluto portare avanti supportati dalla direzione aziendale in quanto questo tipo di di medusa anche se non bisogna creare dei falsi allarmismi qua insomma non è che ci sia questa grossa difficoltà e necessità però è giusto che anche in altri paesi le meduse hanno portato dei problemi di natura economica per quanto riguarda l'attività di pesca l'acquacoltura e quindi Crotone ha voluto sposare questo progetto proprio come capofila regionale per cercare di portare avanti una situazione appunto di prevenzione prevenzione che evite le preoccupazioni le paure dei bagnanti che vengono toccati dalle meduse e oltretutto finalizzato ad evitare la corsa folle come spesso succede al pronto soccorso e quindi portare anche un sovraffollamento e delle spese economiche importanti all'azienda sanitaria stessa ma che deve fare un cittadino che viene appunto da medusa allora intanto diciamo cosa non deve fare quello che tutti i giorni può succedere intanto non deve assolutamente lavarsi con acqua dolce perché visto quando succede qui non è a mare scappano ghiaccio acqua minerale da mettere questo non deve essere fatto in una maniera più assoluta perché che cosa produce l'acqua dolce perché l'acqua dolce favorisce la neurotossicità di queste cose invece bisogna non bisogna fare anche da noi utilizzano molto pomate antistaminiche anche queste non devono perché non hanno nessun effetto anche perché l'azione di questi farmaci è 30 minuti dopo che uno li mette sopra e dentro 30 minuti già l'effetto delle tossine si è verificato allora cosa bisogna fare intanto lavarsi immediatamente quando si fa con acqua salata quindi ci siamo e l'acqua salata sicuramente non manca due bisogna cercare in maniera più veloce possibile di togliere le le tossine che sono sulla pelle questo si fa in una maniera molto semplice il metodo arcaico è quello di utilizzare le mani perché la pelle delle mani è più resistente alla neurotossicità e poi costantemente lavarsi le mani ogni volta che si fa questo ma la cosa più sorprendente è basta avere una carta di credito o una carta di quelle che noi facciamo la spesa al supermercato che non coltelli forbici che hanno delle lame taglienti ma una semplice carta di credito passarla immediatamente sulle zone diciamo dove sono la puntura e quindi intanto tranquillizziamo le persone che le nostre meduse non sono mortali e si è verificato un caso nel 2013 in Italia in Sardegna esattamente ma ritengo che siano stati più problemi perché si possono verificare difatti noi l'anno prossimo quando questo progetto andrà a regime come suol dirsi e che quindi avrà un numero di telefono completamente dedicato a questo tipo di problematiche daremo delle indicazioni ben precise in maniera tale da creare meno problemi e soprattutto dare le indicazioni quando arricarsi in pronto soccorso oppure quando è necessario chiamare noi del 118 questo lo metteremo a regime e lo pubblicizzeremo diciamo in maniera regolare e faremo in modo che almeno diminuiamo le ospedalizzazioni e soprattutto la paura dell'essere punte a questi esseri non sono per la verità non sono moltissime però per quello che effettivamente non si viene in pronto soccorso la medusa si viene toccato dalla medusa in acqua uscire subito dall'acqua lavare con acqua salata non dolce perché aumenta il danno togliere i tentacoli e aspettare l'area e mettere un gel al cloruro d'alluminio che si fa in farmacia non esistono in vendita è la cosa migliore perché una stringente non fa andare il veleno ancora avanti dopodiché aspettare vedere qual è la relazione un medico della guardia medica turistica senza andare in pronto soccorso cosa diversa è se compare sudorazione perdita di pressione che siamo nello shock anafilattico in quel caso immediatamente allertare la sanità pubblica quindi 118 pronto soccorso prima come premessa senza creare particolari alarmismi per quanto riguarda le negozi però in altri paesi si sono verificate delle problematiche anche di natura economica che riguardano l'attività di pesca e l'acqua fruttura giro di denaro movimentato dal museo dell'andrangheta nuovo filone di indagine sull'utilizzo di soldi pubblici in Calabria c'è anche una rimborsopoli antimafia e gli indagati sono 25 ne dà notizia il Corriere della Calabria questa volta a chiedere il rimborso non sono stati i consiglieri anche se tra gli indagati ci sono gli uomini di governo di due enti quello della provincia di Reggio Calabria e quello della regione Calabria del centrodestra la rimborsopoli antimafia secondo quello che scrive il Corriere della Calabria copre cinque anni tra il 2007 e il 2012 quasi un milione di euro e quindi interessa l'amministrazione della provincia di Reggio Calabria e la regione Calabria si estende come scrive il giornalista come un fiume carsico e al momento vede scritte nel registro degli indagati 25 persone non solo Claudio la Camera e tutta la vecchia giunta scoperita la Camera è il presidente di un'associazione che ha avuto dei benefici economici che non possono essere giustificati evidentemente assieme a tre dirigenti regionali che sono coinvolti nella questione ma anche nove dirigenti provinciali le cui firme la Guardia di Finanza ha trovato opposte sugli atti scandagliati per ricostruire il giro di denaro movimentato dal museo dell'Andrangheta questo è quello che ha preso i soldi quindi un milione di euro qualcosa in più di quello che si sono presi i consiglieri regionali che avrebbero speso i consiglieri regionali senza la giustificazione gambrati del quale sarebbe stato utilizzato per attività non attinenti ecco qui la Guardia la Procura di Reggio Calabria che si occupa e l'ipotesi di reate è questa sono stati utilizzati questo milione di euro di soldi pubblici provenienti in parte dalla regione Calabria dalla giunta regionale di centrodestra guardate da Peppe Scopelliti e in parte dall'ex provincia di Reggio Calabria quella sempre di centrodestra per attività non attinenti quindi sono stati spesi questi soldi ne abbiamo diciamo di queste cose di queste di queste cose se ne abbiamo uno al giorno troppi soldi la politica movimenta troppi soldi e troppi soldi che secondo i magistrati non avrebbero non sarebbero finalizzati agli scopi per cui vengono dati ed ora diamo spazio alla lettera aperta del Comitato Infermeristico di Crotone e Provincia il Comitato Infermeristico di Crotone che ha partecipato all'incontro che c'è stato tra il commissario per il piano di rientro dal debito della sanità Massimo Scura e il commissario provinciale dell'azienda di Crotone Sergio Arena ha diffuso un comunicato nel quale tra l'altro si legge su questo incontro ha diffuso questo comunicato incontro positivo dopo tante promesse non mantenute un po' di luce e speranza i quattro posti alla TIN l'impresa ardua ma necessaria le neomamme hanno diritto a far nascere i propri figli in piena sicurezza come è sempre stato la conferma di dieci posti letto all'oncologia scelta alquanto riduttiva vista l'alta percentuale di casi tumorali ma più di questo non era possibile avere insomma no cioè è vero che sono molti ma dieci posti non sono sufficienti ma sono sono già una goccia importante l'associazione io ci metto la faccia né dimostrazione tangibile davanti ai cancelli dell'ospedale pianti disperate e diagnosi la loro non è solo una sofferenza fisica ma psichica familiare ed economic il nostro territorio è invaso da scorie i nostri figli frequentano scuole costruite con rifiuti tossici scrivono queste associazioni degli infermieri che vorrebbero essere assunti all'ospedale ottima decisione nella modernare alcuni reparti usurate da tempo e mai ristrutturati il San Giovanni Dio declassato all'ospedale Spock da scelte scelerate non riesce a dare risposte soddisfacenti a ciò che necessita l'utenza i professionisti che lavorano fanno i salti mortali per salvare vite ai pazienti ma i mezzi a disposizione sono scarsissimi si legge in questa lettera dell'associazione degli infermieri solo lavorando tutti assieme come proposto nel dibattito si potrà riportare l'unico ospedale del territorio agli alti livelli del passato l'utenza vi si recava certa di ricevere le cure adeguate inoltre lo stesso commissario Scura ha ammesso che la nostra ASP in questa logica di tagli lineari è stata più virtuosa di tutte le altre province calabresi ad un certo punto del dibattito si è gelato il sangue nelle vene il commissario Scura davanti alla platea si rammaricava di non essere stato informato che a Crotone esiste una graduatoria per infermieri quindi Scura ha detto questa cosa che non non è la conoscenza di questo fatto ci sembra una cosa alquanto incredibile che Scura ne hanno parlato pure i giornali di questa graduatoria concorso svolto nei giusti criteri che la legge impone poi congelato dal piano di rientro un esempio positivo in merito ce l'ho da Catanzaro che sta assumendo personale infermeristico insomma questa società chiede che anche a Crotone si facciano le assunzioni come si sta facendo nelle altre realtà calabresi una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata avvertita in Calabria tra le province di Cosenza Catanzaro e Crotone il sisma rilevato dalla sala sismica dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma avvenuto alle 9.27 di stamane ha avuto l'ipocentro a 26 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di parenti colosimi e panettieri al momento non sono segnalati danni a persone o cose sono state numerose le telefonate ai vigili del fuoco per chiedere informazioni vigilanza nell'area marina protetta diversi sequestri contro i pescatori di frodo e controlli a tutela dei bagnanti nel corso dell'ultimo fine settimana la Capitaneria di Porto di Crotone ha posto sotto sequestro diversi attrezzi da pesca illegali in quanto posizionati in zone completamente interdette alla pesca nel complesso sono state sarpate e poste sotto sequestro una rete da posta di circa mille metri 18 nasse una rete di tipo 3 maglio di 150 metri il solo valore degli attrezzi da pesca sequestrati a monta circa 4 mila euro tali attrezzi risultavano tra l'altro segnalati con sistemi illegali e poco visibili al fine di impedirne l'individuazione e pertanto costituenti un serio e concreto pericolo per la sicurezza della navigazione e ancora contestati due illeciti amministrativi a diportisti che non curanti dei limiti imposti sono stati sorpresi in zone di mare riservate alla balneazione nel corso di questi controlli finalizzati anche alla verifica della dotazione di sicurezza a bordo delle unità contestata anche la mancanza dei documenti di bordo ad un altro diportista per quanto riguarda invece i controlli a terra verbalizzato per 1.030 euro un titolare di uno stabilimento balneare di Cutro in quanto l'area in concessione risultava sprovvista di un idoneo locale di primo soccorso infine sabato pomeriggio è stato ritrovato un esemplare morto di tartaruga caretta caretta in zona marinella di Isola Capolizzuto successivamente ispezionato dal personale veterinario dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone a proposito di marinella di Isola Capolizzuto è tra le 13 spiagge più belle d'Italia secondo il popolo del web e quanto emerge dal risultato del contest la più bella sei tu lanciato sulla rete da Lega Ambiente la località del Crotonese che si trova all'interno dell'area marina protetta si è classificata all'undicesimo posto tra le spiagge del cuore in base ai voti assegnati dagli utenti e incrociati con le valutazioni di una giuria di esperti Confortigionato ha stipulato due accordi convenienti per le imprese associate sentiamo di che si tratta convenzioni totaler gettamoil per il sistema di Confortigionato cioè Confortigionato ha fatto una convenzione con due società per far pagare meno il carburante ai propri assistiti e anche sui pagamenti avere le dilazioni giuste diciamo che in questi ultimi tempi come Confortigionato stiamo attivando una serie di accordi e convenzioni per far sì per rendere più facile la vita degli associati diciamo che ma quasi abbiamo riportato la quota associativa a costo zero perché agli stessi soci che riconfermino o i nuovi soci offriamo gratuitamente dei corsi di formazione sulla sicurezza che poi sono corsi obbligatori a titolo gratuito quindi c'è proprio una grande disponibilità verso la base associativa per far sì di non incidere minimamente sulla specie in tempi di crisi uno si ingegna insomma purtroppo dobbiamo fare così perché d'altra parte anche noi dobbiamo dare il giusto contributo a queste aziende che stanno facendo miracoli diciamolo pur la situazione è devastante gli imprenditori hanno diritto ad alcune come dire agevolazioni comprese quella della benzina sì ma non solo quelle nei prossimi giorni annunceremo altri accordi che fanno sì che la confattigenata sia veramente leader per quanto riguarda queste offerte di favore un po' a tutte le imprese associate domani 4 agosto alle 11 presso la Casa della Cultura conferenza stampa di presentazione dell'incontro internazionale di boxe che vedrà protagonista nella sua città il già campione del mondo Tobia Loriga domani sera invece a Ciro Marina concerto gratuito sul lungomare dei 99 posse sereno visibilità ottima vento di 11 nodi il tempo previsto per domani su Crotone provincia con 28 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo e 25 la minima ed ora il bollettino nautico del Marlionio tempo vento da sud ovest forza 4 e parzialmente nuvoloso con nubi in aumento associata ai isolati temporali visibilità buona mare poco mosso in aumento tendenza vento da sud ovest forza 5 locali piogge bene ho terminato grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni grazie a tutti